Riesumato, nonostante le polemiche, il corpo di Salvador Dalí per effettuare dei test del DNA. Un tribunale spagnolo ha accolto la richiesta di Pilar Abel, una donna che sostiene di essere figlia del grande pittore surrealista spagnolo, morto nel 1989. Dalí venne sepolto in una cripta a Figueres, sotto il museo progettato dallo stesso artista. Il corpo di Dalí, come sapete, era stato imbalsamato. I baffi, come ha detto il medico forense, sono perfettamente conservati e si trovano nella classica posizione delle 10-10 ed è stata un'emozione vederlo così, dice Luis Penuela, segretario generale della fondazione Gala Dalí. Sono stati estratti campioni dai capelli, dalle unghie e da due ossa lunghe per stabilire se Dalí sia il vero padre della donna. In caso affermativo, lei potrebbe ottenere parte dell'eredità che il pittore aveva lasciato allo Stato spagnolo e alla fondazione che porta il suo nome, perché non aveva altri figli. Evidentemente, se la signora Abel non dovesse risultare figlia di Dalí, la citeremo in giudizio per ottenere il risarcimento dei costi e dei danni provocati dalla riesumazione, ha detto Albert Segura Rota, rappresentante legale della fondazione che si è sempre opposta alla richiesta di riesumazione del corpo del pittore catalano. I risultati dei nuovi test dovrebbero essere diffusi tra uno o due mesi.